L'Inter si appresta a scendere in campo per la prima giornata di campionato contro il Genoa, sono appena state comunicate le formazioni ufficiali. Il tempo delle attese è finito, perché tra pochi minuti l'Inter campione d'Italia scenderà in campo per l'esordio contro il Genoa, diversi dubbi accompagnavano Simone Inzaghi alla sfida, soprattutto in attacco. Alla fine, però, hanno recuperato sia Lautaro Martinez, sia Medi Taremi. Le assenze, però, restano e sono quelle di Zilinski, Buchanan ed Evrei, anche se per il primo e il terzo non dovrebbe essere uno stop di lungo conto. In difesa, il tecnico piacentino doveva sciogliere il dubbio tra Biseke e Pavar, esattamente come sulla corsia destra, dove il ballottaggio era vivo tra Dunfri e Sedarmian, per il resto confermata le anticipazioni della vigilia, con Cialanoulu, Mkhitaryan e Barella a comporre il centro campo. Tante novità anche nel Genoa, che ha dovuto sostituire Retegui e Gudmundson, due degli uomini più importanti della scorsa stagione e dei più ambiti anche dalle big, l'Inter ne sa qualcosa. Andrea Pinamonti non è ancora a disposizione, lo sarà con ogni probabilità dalla prossima partita, ma i Liguri sono comunque un avversario temibile e da non sottovalutare. Di seguito le formazioni ufficiali appena comunicate dalle due squadre, in cui l'esclusione più pesante è certamente quella di Pavar. Genoa, 3-5-2, 95 Gollini, 14 Vogliacco, 13 Bani, 4 De Winter, 59 Zanoli, 32 Frendrup, 47 Badel, 17 Malinowski, 3 Martin, 9 Vitina, 10 Messias, a disposizione, 1 Leali, 39 Sommariva, 2 Torsby, 8 Buainin, 20 Sabelli, 21 Ekator, 22 Vasquez, 40 Fini, 53 Pittino, 55 a Cornero, 69 a Anor, 73 Masini, 74 Papadopoulos. Allenatore, Alberto Gilardino.Inter, 3-5-2, 1 Zomar, 31 Bisec, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 36 Darmian, 23 Barella, 20 Cianolo, 22 Mkhitaryan, 32 Di Marco, 9 Turam, 10 Lautaro. A disposizione, 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Domfries, 8 Arnautoic, 11 Corea, 16 Frattesi, 21 Aslani, 28 Pavar, 30 Carlos Augusto, 47 Fontana Rosa, 99 Taremi. Allenatore, Simone Inzaghi.